boom incredibile come viene arrestato per spaccio di cocaina arrestato incredibile come il padre purtroppo era malato quindi è legato al al letto il figlio purtroppo ha portato avanti questa carriera in quarta divisione e boom spacciava doping al suo posto arriva lui alessandro casciolo arriva alessandro casciolo nuovo allenatore ma di che squadra chissà di che squadra la c71 idolatrato icona del calcio italiano e mondiale si però va modificato chi è sto coglione mamma mia mi viene da vomitare oh dai questo mi assomiglia questo mi assomiglia mamma mia se può vedere mi importa vede un po ti dirò c'è via quasi allora andiamo a cambia subito capelli mamma mia mamma mia serve un nuovo berretto serve un nuovo berretto ma che cazzo è ma perchè c'è il berretto con la coda grazie grazie corpo un po un sac grazie di 26 un c'è su cristo beh vittoria coppola ce l'ho pure io grazie grande coppola malefica coppola si lascia la coppola un segno distintivo un po meno de barba mamma mia che schifo no è un ac71 che si è lasciato andare un ac71 che si è lasciato andare ha fatto crescere questa lunga barba questa lunga barba andiamo a modificargli questo malefico outfit un outfit come lo vogliamo quest'outfit un outfit un po un po' pazzo un po' pazzo una 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 camicetta nera una camicetta nera nel chilling senza giacca un pantalone un pantalone ulivastro ma questo non è ulivastro un jeans un jeans o un casual nero no vabbè ci dissociamo dalla camicetta nera ovviamente un casual kaki prendiamo un casual kaki un casual kaki con boom una gravattina rosa mamma mia ma gli ha vestito padre mio boom una gravatta a po' azzurra una gravattina a po' azzurra anzi guarda che hit ragazzi mi sa gli cambiamo qua la camicetta non si può vedere boom ma invece lui niente zero camicette gli fanno schifo si mette subito una maglia bianca con colletto aperto così bello fresh ma perché fa vedere i pedalini ho uno stivaletto tiè e che gli vuoi di che gli vuoi di a c71 che va a allenare lui 5 minuti euro attivo disattivo elastico disattivo si respira aria di casa si respira aria di baglia dei pirati che stati avevamo con la baglia dei pirati vuoi ricordare qualcuno se lo ricorda molto on road potrebbe essere potrebbe essere baglia dei ma sì quell'altra carriera mi stava a fa schifo baglia dei pirati Africa si ritorna dove siamo stati bene dove abbiamo amato dove abbiamo sofferto dove sono nate amicizie dove sono nati amori dove sono nate ingiustizie dove sono nati però grandi sentimenti cancella tiocane casa siamo tornati a casa oh c'hiamo già pure coppetta interessanti vai un mio 1 e 4 faccio subito Marpera era del coso non esiste non lo posso ricomprare allora vediamo un po' che squadra ci abbiamo piacere cazzi e pazzi vediamo un po' chi c'avemo se c'è se c'è gente che mi ricordo ma questi hanno venduto tutti sti matti Jeffcott me lo ricordo allora ci abbiamo Cooper o Poku Watz Imson me lo ricordo era vecchio Ermaggiore Ermaggiore c'è sta ancora Ersindaco cazzo è questo Forna oh vent'anni ma questo è il boss Camara oh ma che cazzo è giocato di c'hanno dove sta la legge si la legge Grant Wutz Moore Cooper ah zi Trenino Cooper Tom Sawyer Tom Sawyer questo lo ricordate era un prestito tipo mi sa che hanno riscattato e poi tutti sti bidoni de merda ma che modulo del cazzo c'hanno poi ma che sto 532 ma che sto 532 zozzo un culo orrendo brutto vero fammi andare a vedere una cosa va allora contratto contratto allora Lewis in prestito Wutton l'abbiamo dato noi in prestito ammazza il Wigan Athletic scadenza Wutz in prestito Wutz in prestito poco in prestito porco dio ma c'hanno tutti in prestito sto forna in prestito ha qualcosa in più addirittura questo questo mi sa questo questo tocca a vederlo sto panucce camarame sa che cresce questo Jeffcott 66 20 anni madonna c'hanno parecchi prestiti vediamo un po' che c'hanno nel vivaglio ma quindi c'è un fenomeno per forza c'è tipo un fenomeno no beh quell'altro era più sbroccata quell'altro c'hanno 72 quello era clamoroso zi cioè questo c'ha 63 cioè sarà buono ma non sarà un fenomeno però quello c'hanno un anno di più questo sembra buono 1,88 luis 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 cdc ccc cvallos purtroppo questo non sembra male 74 94 ccc però questo c'ha dei stats de merda questo 58 46 53 forse sto leo 58 potrebbe averci del potenziale sto bright o subito sembra bello urla oddio ma quindi mi tocca rifarsi tutti allenamenti madonna che dito un culo come vedete sto fiscallo che avevo preso bright 4 di skill 4 di piede debole 16 anni 1,88 82 di velocità 87 di fisico 90 di resistenza ma chi è? questo va fatto tipo dc pertanto c'è i piedi a banana c'è i piedi a 74 potenza tiro ah no aspetta 69 scivolata e guarda non c'ha manco male a tiro c'ha 64 e passa ma questo box to box questo è gullit 4 4 no zi ma che dici questo lo metti in mezzo al campo dagli subito sto fornaro va dagli subito sto fornaro allora mo tocca studiare sempaglio te cazzate come al solito intanto fammi chiudere quel blocco note di prima due ore me le tolte proprio per culo allora capiamo intanto il modulo quel modulo lo vogliamo giocare di sicuro non sto 5 3 2 me sa che me gioco che modulo se potremmo giocare un modulo carino no 8 4 2 è un po' azzoso con che giocavo con con che modo lo giocavo l'altra carriera sai che mi ricordo 4 4 2 3 1 no non la carriera questa che ho fatto un secondo fa che l'ho fatto l'anno scorso dico 4 4 3 4 3 4 pure l'altra carriera ho fatto inizio difesa a 3 poi 4 2 3 1 c'è l'ho c'è l'ho con sta difesa a 3 di Ocane c'è l'ho con sta cazzo di difesa a 3 allora sto a vedere che c'è una marea dei centrocampisti centrali ma tipo troppi vabbè che si vendono ma ci abbiamo tipo troppi difensori centrali abbiamo pure ma sto eduazionera centrocampista ma sì questo è diventato ada l'hanno adattato ala adesso e tipo sì esterno destro questi sono buoni però ada vuol dire che non gioca esterni gg grazie dei 10 bentornato man allora giochiamo io giocherei con il 4 2 3 1 largo possiamo giocare col 4 2 3 1 largo emo cioè posta se abbiamo i 2 cdc una però il cc a me non mi piace proprio come ruolo il cc 4 5 1 ma lo sai ma lo sai ve dico vaffanculo 4 3 3 offensivo anzi 4 3 3 difensivo doppio cdc in cc e doppia ala vaffanculo giochiamo con questo 4 3 3 va a cacare va offensivo no perché è troppo questo col cc e metti questo mi sa giocavamo noi perché mi ricordo c'erano c'erano jones del liverpool cc giocamo 4 3 3 difensivo non me ne frega un cazzo poi adesso ci dobbiamo scoprire come mettere questi allora stop right gioca sicuro sicuramente dovremo vend granta ti gioca alla sinistra che cazzo qua te li devi andare a segnare punta jeffcott questo sembra urlo di sicuro non ci abbiamo le ali le ali non c'è un cazzo dovremmo vendere un sacco e comprare tipo tutto nuovo dc ts ts asa asa questi li trasformiamo in terzini sinistri egarus grazie dei trenta tipo qua metti subito il trenino fuori la legge porco dio mi sto in culo famo eduards e cooper li trasformiamo tersini sto vaz via mo mettici sto coglione a rvolo mazza 86 velocità sto ardi porco dio ma è un trattore ardi ma questo titolo di precisione classe ma è il mostro quanto c'ha le piede debole 23 anni questo lo trasformiamo alazzi questo pure core ma guarda che le ali in mezzo ci abbiamo questi li trasformiamo questi li trasformiamo e mettiamo Jeff cotto punta bello speedy gonzalez bella georgia grazie di 7 bentornata questi li potremmo trasformare centrocampo siamo strapieni sto a vedere siamo proprio strapieni mcleod infortunio facile 26 anni centrali che cazzo ci avevamo poco questo stamp rest però non sembra male 21 anni 1 1 95 madonna 26 anni 1 1 79 mccormick cooper questo cresceva pure mezzo mezzo cresceva lotus la legge ma che terzino ma posso mettere questo terzino poi ci mette i secoli a trasformarlo lascio cdc cdc deve spingere deve pistare anzi in realtà mi piacerebbe anche in realtà un modulo ancora di più mi piacerebbe per i giocatori che ci abbiamo dove cazzo è questo contenimento con un cdc e due cc è meglio così metti wright da solo e poi due centrocampisti a sping meglio meglio però mi devo segnare se no non capisco me li devo segnare se no mi perdo blocco note anzi però in realtà posso fare da no no non c'è il nome li segno aspetta allora andiamo su abbrosa allora ci abbiamo addirittura tre portieri cooper 20 anni sto rudy 22 anni sto mccormick ce n'ha 36 vabbè si teniamo sti cazzi tre portieri vanno bene poi tezzini sinistri ci abbiamo george cooper la legge e luis emilton luis emilton se io faccio termina prestito vedi non conviene terminare i prestiti perché ci devo pagare sopra si teniamo e sti cazzi fammi girare la sigaretta allora sulla fascia sinistra siamo coperti potrei vendere la legge però la legge ha il nome simpatico quindi me lo tengo per il meme la legge di sicuro dobbiamo trasformare cooper in terzino sinistro cooper ce lo fai diventare perché ci mette 27 settimane cioè questo è più facile che ti diventa esterno destro che terzino sinistro ma perché diventa s è più facile ti diventi ala destra e lui era sì non era non era destra cazzo questo è un problema perché c'ha due di difesa sto coglione è portato è portato vabbè lo adattiamo sti cazzi sta a casca tutta il tabacco aspettate tutto c'ha detira guardi un attimo beh ho visto tiratori migliori ne è sicuro comunque in caso se non li fai giocare i prestiti li richiamano alla sessione del mercato dopo non li giocheranno no che cazzo giocano ci avrò i giovani i pischelli faccio giocare faccio giocare i prestiti cazzo si in cura quindi li metto giusto per meme niente trenino cooper quindi ci sta vitragliando trasformarlo in terzino sinistro è un dito al culo perché sennò dovremmo trasformare in esterno però come cazzo andiamo a giocare poi per 4-5-1 bella merda mi viene davo umità a giocare per 4-5-1 poi modificare la posizione nel modulo e fottere il gioco dici lo metto eh non so se te lo pia come asa vabbè io lo segno degli ts sti cazzi poi a noi ci serve il terzino lo mettiamo il terzino me ne prego un cazzo la legge Lewis poi in difesa ci abbiamo 2-4-6 eh 2-4-6 ci abbiamo 7 centrali perché questo sta in prestito ci abbiamo 7 centrali per 2 posti quanti so in prestito wats è in prestito wutz è in prestito o poku è in prestito allora sto wutz so buono pute di bia ripiete sto wuzzo che merda wutton soripiamo ripiamo sto tomblin son 51 sei po' bello che vende soi 1 2 sto pors al 51 16 anni ma che cazzo ce devo fare sarà un babbuino sto porsino sto porsino lo teniamo andrà grazie di 15 mesi bentornata cara sto porsino lo teniamo 65 sembra buono poi in caso troviamo un'offerta per il difensore lo acchiappiamo will will im son si può fare addirittura contatta per che succede se faccio contatta per acquisto posso aggiungere una è del full ma questo mi sa che cresce pure lo sai ho trollato vabbè io offro mezzo milione per il meme così rifiuto muo richiamano di okane allora 1 2 3 4 5 6 7 dobbiamo togliere 2 e togliamo ste 2 pippe 6 e 5 quell'alti si tenemo a destra ci abbiamo 3 ada byron moore 31 anni jarvis clear 53 anni e edwards questi dobbiamo trasforma tutti 82 settimane per diventare terzino ma che cazzo sto a vedere cioè c'ha 53 no 53 anni e vedi questi sono tutti diventano tutti esterni destri però non ti diventano terzini ti diventano esterni destri ma non ti diventano terzini porco dio edwards ci diventa terzino c'ha la difesa buona fammelo terzino edwards questo se lo venemo si venemo sti cazzi poi c'è more fornaro che è in prestito e bright 2 cdc vanno bene a 100 campo c'è 2 slot 2 4 5 5 cc potremmo vendere un cc questo ci fa cc 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 e d potremmo vendere sto mcleod sto mcleod no e rips potremmo far più arvolo fanno per volo a sto rips e guarda quante punte sto hannis potremmo trasformarlo alla sinistra 17 settimane trasformamolo lolos 55 jepcot ardi questo vanno trasformarlo alla destra 49 settimane porco dio trasformamolo questo questo è in prestito lo potremmo far tornare ok ok già dove rientro questo se n'è nato a posto si si no poi con allenamenti se li fai giocare là in teoria tanto perdano meno uno meno due sti cazzo ok sto lo stoglilo dei coglioni vton quasi quasi metto mezzo titolare vton c'ho uno di più mettilo qua grant grant rips l'abbiamo messo in vendita togliamolo dai coglioni metti al fornaro ci servono ali mcleod serve un ala qua da mettere pappagio c'è Wilson ok poi andiamo a modificare le tattiche fai 5-5 equilibrato in difesa in attacco voglio giocare manovra veloce campiezza 6 giocatori in area 4 anche 5 angoli 3-3 va bene ruoli nighili grazie dei 40 allora le punizioni chi c'è tira ce le tira questa ceppa di minchia fanno tutti schifo adesso famo battere tutto a cooper e quello c'ha un po' meglio rigorista 64 andiamo a modificare pure le istruzioni al volo facciamo allora i terzini spingono un pelo e il cdc mi resta dietro loro fanno un po' il cazzo che vogliono inserisci ti alle spalle e gli esterni li mettiamo taglia dentro di gmanova veloce è un po' troppo possiamo fare anche un equilibrato lasciamo un equilibrato ok perfetto poi torniamo su abbroso mettiamo i piani di crescita a tutti allora i portieri lasciamo equilibrato cooper ci abbiamo già messo il coso la legge ci mette due settimane la legge diventa ts mettiamo la legge che diventa ts lewis questo è già ts lo facciamo laterale difensivo wutton lo facciamo stopper 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 questi tanto già 300 anni sta per morire metti stopper stopper edwards abbiamo messo terzino destro more lui terzino destro non ci diventa manco se crepi tanto abbiamo messo un vendita sti ragazzi Jarvis Cleal lo lasciamo morire lì lui lo possiamo fare tipo leader anche centrocampista recupera palloni bello urlo però fisico già ce l'ha alto centrocampista difensivo vede grazie del sub benvenuto manna centrocampista difensivo sto forna pazza quanto corre sto camera mezzo regista sto camera io ma pazza ma un po' quel passaggio del merda che c'ha lui grazie dei nove eh er maggiore lo fanno box to box sei un patato un patatone che bimbone fazz fazz questo tanto sta ma bene grand box to box box to box questo lo fai attaccante mobile attaccante mobile questo abbiamo già trasformato ala lui lo facciamo rapace questo abbiamo trasformato apposta poi dovremmo farci i vari contratti bel dito in culo andiamo a farci un po' di contratti vai lui già 300 anni non lo rinnovamo avuto ogni scadenza da porco dio trollato dio merda cristo che palle tre anni devuto andai accetta 0 claus adesso cerchiamo di sbrigarsi perché sennò è urlo della tossicità prende 3003 dai te do 3k e cagli il cazzo a posto prestito aimson delega 44.000 mi pare esagerato 2,5 2 anni di più perfetto questo 34 anni sta in coma loro stanno in scadenza e tanti stanno a vende stanno a vende mcleod 3.000 3.000 perfetto non so se fa ritorna sto noble quasi quasi ma sai questo richiamalo va per 30.000 vialo 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 ritorna la roccia questo club club wilson adesso vogliamo passare queste due pippe ok abbiamo fatto tutto questo fantagrazie 33 ma movito ti fai gli allenamenti orcoddio che palle tocca rifassoli tocca rifasse sti allenamenti de merda si rifà marvolo sti cazzi magari non trollandoli perché sennò poi gli devo rifà di nuovo un'altra volta tata tira malefico di oh ma sto camera sembra il boss finale se famo due bu dai maggio dai sindaco ma vaffanculo sindaco vabbè se abbiamo una bese pallone che scotta si mo questa è un po' pepega tanto è l'una e mezza sti cazzi almeno così per la carriera per domani stiamo parte subito pulita se famo giusto la campagna acquisti mo e via se se famo la malefica campagna acquisti se compriamo qualche pischeletto d'arca tut 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 vabbè ma l'ho stompata potrei pure fermarmi l'ho killato sto esercizio guarda che tiki tagga vabbè basta il tuo cazzo tu fa scenari difensivi vabbè sono praticamente poi l'ordine è letteralmente lo stesso tu 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 ma reva di te coglioni va col dio che gol mi ha fatto ma questo è matto mi ha fatto un gol no senza oh ma è dio sto rips ah devo dimodificare le impostazioni dopo comunque oh ma non glielo si toglie ma che cos'è sta cosa che non si vede niente mamma mia che interventino dai portier qua se abbiamo una c già sottiltato oddio forse l'avevo smurfata bravo aimson nice ah perfetto giocatore da rientro andiamo un pelo avanti manzano grazie di 22 che bello rivedere il miglior manager in circolazione di nuovo ad allenare questi sono contenti che sono stati messi in vendita bravi allora in teoria potremmo possiamo portare su sto leo sto leo questo cevallos madonna uno di piede debole cevallos ma lascio là moriva sto leo però 58 alla sinistra ce potrebbe mezzo sta per averci così un coglione per il meme ce potrebbe mezzo sta non sembra manco malaccissimo mezzo 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 so potremmo mezzo via so abbiamo il brother ok poi svincolati svincolati età massimo porco dio massimo 25 anni allora davanti ci stanno solo sti no non lo pio taccare non mi rompete il cazzo non lo voglio non lo pio manco morto no banquer codice a bar pio lascio l'amore ivan colab 25 anni in scena anima c'è sempre luis terpino mago che n'era male luis terpino mago e io questo mezzo mezzo mori a chiapperei luis terpino mago n'era male so potremmo prende per il meme dici gente sul mercato clausola rescissoria io voglio quel tizio di prima come si chiamava nakai quello non te ci viene però da guido nakai il migliore del giappone questo mezzo mezzo c'è il contratto in scadenza qua ma si guarda un attimo se questo ci viene sul mercato vediamo un po' chi c'è sta sul mercato pinsoio ma sul mercato ci stanno certi pipponi a sugo javi martinez ma antonio donna rumba padelli pinsoio donna rumba sto coge è 70 eh ma costa la lira di dio contratto pure in scadenza valore 1 e 4 da voglio in occhio ma potrebbe essere simpatico uno che ne sa capito uno che ne sa però prima voglio vendere voglio vedere quanta roba vendemo vediamo quanta roba vendemo e via capirei quando ho sarto questa erbossa ricordatemi a cambiare slide dopo appena finisco sto allenamenti beggin beggin you oh ma l'ha tenuta ma erbossa dai hannis su e vaffanculo rifasse st allenamenti è urlo del fatale incredibile casmo sul como buonissimo abbiamo se sta bello mark grazie dei tre il sovrannome di nakai è pipì perché ma dai ma ti pare mai sta torta perché cazzo dovrebbe fare solo 9ppi bello zuppicazze 25 vado mi fa sta cosa a volo tonk io quello vorrei vabbè che gioca c o c a noi ci serve ben cazzo lo dovrei adattarci c ronda che passaggio ha fatto si malefico edwards non ci sta mica dentro è matto tonk bello young grazie dei 31 thank you man un figlio mi sbarro il disco che consiglio il boy mi ha abitato figlio di puttana vabbè dai l'abbiamo fatta ma chi è questo o poco dovrebbe essere difensore di di can ne hai fatta passare tutte i gambe st imbecille oddio ma è matto e quello adattato cc ma comunque in vari giochi anche cc quindi c'è posto tu 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 arre in b muo gli dà un occhio allora offerta per il maggiore il maggiore noi non l'abbiamo messo in vendita rifiuta offerta per leo ah è quello mio tervivaio prestito con diritto di rischiato trattiamo un attimo va per diritto 6 50 90 vado presti te bah no volevo no per fare vaffanculo mo lo tengo allora questo questo simulamo simula veloce sti cazzi tanto questa coppetta me ne sbatte in cazzo la tiramo dritta offerta per byron moore byron moore lo dobbiamo vendere ma questo c'è la clausola ma stai scherzando accetta vediamo un po' se ste slide se solve ok vanno bene se ste cose metti lascia 50 50 vedi da portiere lascia 50 aumentiamo solo gli infortuni e che i miei fanno giusto qualche cappellata di più ma metti pure 40 qua pure metti 40 50 85 40 ok vanno bene si si ho il cheating in negativa offerta per byron moore 3 80 vanno tutti sto campioncino ed ho facciato pure quest'atta ok danni scarlet 88 potenziale ammione 3 vediamo sto scarlet dain scarlet delta mamma senza immagine porco dio che palle mi fa schifo già che non c'ha l'immagine fa cacà abbiamo vinto 2 a 1 cassa flessibile jutsu ma basta le offerte per il maggiore non lo vendo dio ma lo vanno tutti non lo vendo mor venduto a 360 un altro offerto per sto leo 2 anni andiamo a far se stata roba ma che palle questo è l'esercizio buggato è buggatissimo sto schifo ma che controllo right oh ma è boss hai sbagliato il bersaglio oddio hai sbagliato il bersaglio beh che cazzo dice ma è matto mamma mia right right ma chi è sto right ah ma lo posso fare pure con l2 quadrato ma allora vattene affanculo ah ma right è quello forte vabbè se lo facciamo andare bene la strada verso il goal chi è sto cazzo di right quanto cuore questo sarà camera ottimo lavoro ci dice il mister malefico mister oh no di nuovo quello dagli spalti di nuovo quel maniaco dagli spalti un grigino vecchio c'è un grigino vecchio c'è un grigino questo è il trenino cooper guarda quanto cuore sto maniaco tiro da ogni angolazione oh no che palle madonna questo è riuscito l'unico ostacolo di okane ma basta fammi terra con sto lolos che c'è i piedi foderà di deprociutto vorrei fare la squadra quindi si se fanno pure una partita di campionato perché conta prima se siamo fatti cinque parti di campionato ne avevamo finito mancare campagna acquisti ok urlo della pentagill allora sono arrivati dei resoconti rifiuto rifiuto prestito akaki gogia 69 69 69 bene è mica male comunque 60 questo non crescerà mai però visto che a destra lanciamo un cazzo forse questo lo riusciamo anche a pagare molto poco per il mezzo meme prometo per culo se costa molto poco si 4 4 non vuole trasferirsi c'è il coso scaduto non vuole trasferirsi ok brother derpino mago sopiamo però derpino mago pagamo tipo 4k di stipendio sopiamo te do importante non cruciale importante vuole essere cruciale sto fio della mignotta va bene va bene cruciale cruciale se fanno 4 anni the wizard ignora la clausola 5k e 2 che dici i difensori sto avvenne beh gratis questo il difensori sto avvenne questo avvenne subito di do lare avvenne un sacco di roba derpino mago direteniamo se non è male cioè posso stare bello veloce fidate fidate trastare il processo trastare il processo trastalo no ho fatto la simulazione quella lunga non c'ho voglia come cazzo se schippa non se può schippa tocca aspettare primo tempo options va il risultato una una mi sa che non siamo passati no siamo passati invece semifinali oh bonus i 350 mila euro di più resoconto finale su nakai cambio ruolo per joe edwards diventa metid molto bene e poi mi diventa in ber laterale difensivo apposta che ci dici di takuiro nakai un milione contratto in scadenza anzi io questo lo voglio non me ne frega un cazzo io lo voglio ti prego fallo venire porco dio perché figlio di puttana non ci vuole venire sto rotto un culo ma sto in serie c sto in serie d e poi abbiamo grande margine di progresso c'hai 16 anni viaggio can serie c porco dio non è che c'hai 30 anni dio cane è rotto in culo figlio di puttana lo odio arreimbi vediamo sto arreimbi ma è un altro difensore ma basta segniamo se lo si ma va difensori dio porco ci ci servono ali dolan vediamo sto dolan dolan dacca tiris dolan brutta faccia centrocampo in realtà stiamo messi bene ci servono centrocampisti a sto giro ci serve alla destra ditemi le ali sinistre pure che prima ero tercazzotuore con ste ali sinistre christos solis der paok arzani daniel arzani 21 anni mamma che faccia non voglio vedere dimitro oddio dimitro ma guarda che ne era male mi sa che cazzo ho cercato no era dumitru non dimitro era dumitru chi è christian dumitru ma chi cazzo è dimitru mio fratello dimitru denis dumitrascu ah si se esiste impazzesco si sta prende non esiste uno che si chiama pecora capra c'è c'è solo caprare urro del bobby vieni sta roba da ramie già ce l'avevamo auge quello termina sta bene là ragazzi abbiamo un milione da spende non 20 pippe da un milione servono pippe da un milione gott oddio potrebbe esiste gott no niente niente capre niente capre junkie c'è stanno ship forse ship esiste no shian c'era una volta come si chiamano ship mi pare lo demir l'hiamo già cercato mi sembra no forse no quanti demir esistono fra questo emre demir 16 anni del kaiser contratti in scadenza segnalo lagsir è il mostro c'è un nome simpatico a me piacciono Samir lagsir dello svolle vai segniamoselo mazzisti i nomi di bombardini junior xavi simmons che palle oddio mio che vomito io voglio un giapponese porco dio però non c'è un cazzo cava la com'era kawasaki shui kawasaki potrebbe essere mezzo urla cubo è in prestito jäger esisterà di sicuro non c'è uno che si chiama jäger kawasaki kawasaki Cdc Che schifo Non c'è via per cazzo Va bene là Andiamo a giocare Qua tu fa due gambi Questi stanno in coma Ma ti fa al posto di questo Ma che cazzo ci metto Andiamo a giocare a Jeffcott Ma Jeffcott aspetta un attimo Ma non me lo fa l'ala Metti Noble dentro Metti Wutton Edwards, Cooper sta in coma Metti la legge Titolare Poi il maggiore dentro Grant McLeod al posto di Camara Bright lo famo giocare al fenomeno Simulazione veloce Vediamo se piamo il cazzo ormeno Oddio abbiamo vinto Gorder maggiore all'ottantacinquesimo Tocca andassi a fare pure la finale Sta cazzata Urlo babbuinesco Premio torneo Questi sono sordi Sono alti cinquecentomila Jeffcott è stato squalificato Per due partite Che cazzo ha fatto Sto coglione Porco dio ma che ha ammazzato Un cristiano Due giornate te squalifica No sborrando Tienilo lì Porco dio Che difensore di merda Era orrendo Bello lui Grazie dell'anno Grazie a squadra Burger King Una merda Era meglio La squadra di Gufi Cioè quella Qua squadra Non c'aveva nome Steven Age Ma che cazzo De carriera è Che faccio Oh attenzione Grande partita Dello Steven Age Orribile Stonk Ma se la giochiamo La finale però Che è sta roba Ma due sui tiri Stonk Bello zero Grazie dei tre Fazzo prendi in considerazione Comanes dello Steau A Bucharest Che ha un bel potenziale Oppure un Buffon esotico Che lo paghi un euro Buffon Alla baglia dei pirati No Buffon sta bene là Non lo voglio Ne sta sul cazzo Ponk Porco dio Che è parata Buono No No De al limone Avemo segnate parecchie Quindi nel turbo Mamma mia Che cross Ma chi Che la sta a mettere Dentro No Ma che ha tirato De tacco Parco dio Se segnava così Era il fenomeno Querlolos Guarda questo Che ha preso Mamma E qua abbiamo D Ma se fanno tutti Anticipa Sti coglioni Beh sti cross Manco veramente Candreva Però Anzi seppiamoci qua E oro Insomma dammi tu punti Dio cane Mamma mia Che schifo Allora C'abbiamo grande finale Wolfsburg ha preso Kamada Da Ichi Kamada 24 milioni Ma chi cazzo è Oh Dio cane È la punta Che mi serve Dio cane È andato a scampia Sti imbecille Con chi gioca Ammo Ho poco Cooper Ma c'è un doppio Cooper Oddio Mi ero scordato Sta cosa Ma è il camera Maggiore Ardi Fanno bene Dai Vediamo un po' Una panca Un po' Più Un po' Più fresca Di questi Portiamo Seleo No Se ci portiamo A casa Più fresca La squadra allenata da Alessandro Mamma mia Trenino Cooper E' già un altro pischello Trenino Cooper No ball Mamma mia questo è tremendo Ecco perché stavano prestito Ecco perché stavano prestito Mamma mia Trenino Cooper Il sindaco Viene avanti il sindaco Bright Il gira Bright Palla per il sindaco Il sindaco spinge fortissimo Eh questo sta fuori gioco il brother Mamma mia Trenino Potrei prendere qualcosa in diritto In prestito con diritto di riscatto Infatti Dopo andiamo pure a solle di caccia Il cazzo con quelle cose Arby No ball E' avanti No ball Tacchetto per Camara Eh lo sa che oltre Un altro fuori gioco Lo sta spingendo questo Ma quanto chi stiamo a giocare? Lo Schalke 0-8 Che è? Camara Viene avanti Camara No ball È regolare Beppe È irregolare Beppe È irregolare Beppe No ball l'aveva messa dentro No ball l'aveva messa dentro Ma è tre volte su tre In fuori gioco Sti imbecille Edwards Perco Dio sta squadra Bello regolus Grazie degli otto Ah si E Sto modulo è già un miardo x Rispetto a quello schifo di prima Che era ingiocabile Dio Cristo No ball perde il pallone L'inset Nice Abdullebleble Ho poco Ho poco ma mezzo silurato Ma mi vado a comprare Omeragic Dio Cristo Ennis Parla a The Wizard Ma basta Difensore di centrale Dice no Mi arda Ardi Vieni avanti Ardi Grande corsa Generoso Lo sbaglio il passaggio Sale Tross Tomassen L'inset O poco Lo va a cercare Nice Certo che Senza Jeremy Menez Tutta una merda Bojang La versione da rocca Della Mojang Occupe la palla Il trenino E allora Ennis Prova a mettere il nostro Sulla fascia Oddio che visione Ma in fuorigioco Ma stanno sempre in fuorigioco Dio Cristo Madonna Sto fra i telepia tutte di capoccia Noble Vieni avanti Finora solo Solo pirati Noble Per Camara Posizione regolare Ardi La mette per il maggiore Albero Si scatena la baglia Dei pirati Non c'è fallo Per l'arbitro Noble Il maggiore Palladetto Bellissima Che s'è cagato Sti imbecille Che s'è cagato Sti imbecille Mamma mia Che s'è cagato L'inset Sale Tros Ma ci stiamo rompendo il culo A questo Bello Edwards E' un'altra grande palla Ardi Gira Bene per Edwards Ancora Noble Il maggiore Il sindaco Doppio passo Del sindaco Qual è il sindaco Attenzione Posizione molto pericolosa Ardi La tiene Bene Camara Il pallone non filtra L'inset Palla lunga per Ofkir The wizard Su di lui Lo chiude Lo porta sull'esterno Come la sua Cagnetta Poi dobbiamo parlare A Ofkir Attenzione Sempre The wizard Su di lui Tomassen Sale Tros L'inset Ofkir Tomassen Ofkir E va A fanculo A Christopher Mi si pot toglie Tomassen Di nuovo Sale Tros Azione Prolungatissima Di questi imbecilli Cooper Ci mette una pezza L'ammenezza Non c'è più Nel gioco Sì Se no Sto andando a piano Non è andato a giocare Di Bonseri e C Nella realtà Cooper Noble Ed è Ardi Andato in avanti Ancora Noble Finisce il primo tempo 0-0 Sta la regina La regina Sta in serie C Lo sta la regina Sta in B Quindi in teoria C'è amenezza Non c'è a serie B Su FIFA Ma c'è sempre stata Che l'hanno tolta Ma da quando Che scam Urlo della scammata Tomassen Attenzione La palla resta lì The Wizard Si fa dobbare O Poku poi Mantiene bene la posizione Può ripartire Wright Il maggiore Ennis Bella palla con il sindaco Buono il dialogo Tra i due Il sindaco Vrebbe lo scatto Di Camara Camara Grande progressione Col piede Camara Camara Un gol pazzesco Malefico Iperturbabile Onnisciente Camara Che visione Di gioco Del sindaco Alla paglia Dei pirati E' 1-0 Decide Camara Per ora Malefico Gol di Camara Abul Blibli Blablabla Blablabla Ho detto Quel Camara Lo ne sapeva Sta avanti Il pallone Ora per Noble Serve il sindaco Noble Fermato Linset Lancio lungo Sempre Abdublar Barb Ricomincia Dallinset Cercato Il pallone Siamo sulla fascia Con Naes Trenino Cooper Su di lui Babb Palla dentro Per Abdu Bribribriborb The Wizard Non si passa Poi Camara Jamie Hardy Jamie Hardy Viene avanti Jamie Hardy Velocissimo Un fulmine Jamie Hardy Visto Trenino Cooper Sulla fascia Il nostro Spinazzola Lo Spinazzola Dei pirati Jamie Cooper Per Hardy Camara Camara In mezzo E poi La butta Dentro Ma questo Matto Ma che fa Doppietta Di Camara E ma gli Double Goal E quello Era goal Sicuro E poi La butta Dentro Un pazzo 2 2-0 Camara E si vede Che siamo Tornati a casa Quella squadra Di merda Non si segnava Manco Se pregavi Qui invece Calcio champagne Calcio champagne Con i pirati Calcio champagne Camara Vai E lancio Abdul Cazzo in culo Camara Bright Come gestisce bene Il pallone Però il sindaco Un metronomo Il sindaco Un metronomo Il sindaco A centro campo L'inset Ho poco Lo va a prendere Poi pesca Il sindaco Fuori gioco Del sindaco Il capitano E quello C'è un lato E' espulso Di ocane Lo gioca per forza Con sto frigorifero Davanti Ho poco Si riprende il pallone Allora Bright Lo gestisce bene Allarga per Ennis Il maggiore Sbaglia il maggiore Allora Nice Sale Tross Si gira Sale Tross Bella la finta L'inset Nice Scarco Scacco matto Qua Tiro Ci pensa De Wizard A ribatterlo Poi trenino Cooper All'inseguimento Di Bojang L'inset Sale Tross Porco Dio Cazzione Dio cane Cazzione Ma che cazzo Cazzione Hanno fatto Accorcia le distanze Accorcia le distanze La squadra Avversaria Ancora non ho capito Che cazzo Di squadra è Il Sars 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 08 Con Offkir Al 74 Arrivano Si sentono Momenti Bui Vediamo se riuscirà La squadra Allenata D'Alessandro Casciolo A mantenere Il vantaggio Il sindaco Bright Palla per il trenino Torna dietro Il trenino Gestisce molto bene Palla Allora Bright Bright Si fa Ingolosire Dal tiro Bright E ora potrebbe partire Un contropiede Per la squadra Avversaria Ma ricominciano Da dietro Attenzione Il lancio Un po' troppo Lungo Potrebbe arrivare Un cambio Che possiamo mettere Forse fuori Camara Standing ovation Per Camara Dentro McLeod Poi mettiamo Questo Guaglione Leo E basta Leoni D'Astergio Mamma mia Leoni D'Astergio Che giocatore Astro Brogan Edwards Devo spingere Sulla fascia McLeod Noble Si gira bene Pesca ancora Il sindaco Lasciano molto Campo gli avversari Attenzione Perché c'è uno Spazio enorme Per McLeod Che si divore Il 3 a 1 Che cosa Si è mangiato McLeod Lì Camara L'avrebbe messa Dentro Cooper Dall'angolo A cercare un po' Quel pallone Resta lì Vetti Skalevik Edwards Va a cercarlo Anche Trenino Cooper Nientano tutti Wright Bojang Attenzione Però sia fuori gioco Invece è tutto regolare The Wizard The Wizard Bravo Elegante Elegante The Wizard Pochi minuti al termine Wright Palla per Edwards Che pesca Jamie Hardy Grande corsa Di Jamie McLeod Il maggiore Palla per Leo Ancora una volta Fuori gioco Ancora una volta Fuori gioco Ma la sperisce Alle stelle Un minuto al termine Edwards Recupera il pallone Allora viene davanti Wright Leo Serie di finte Noble Pescato ancora una volta Il sindaco Probabilmente il migliore In campo Il sindaco Detto per Noble E chiude il match Pistacchio Noble Su assist del sindaco Che giocatore Totem Malefico Mamma mia il sindaco Avvelenatissimo Fortissimo il sindaco Si Mette il punto Su questa prestazione Maiuscola Dei pirati 3 a 1 Si portano la coppetta A casa Caciolo is back Eccolo inquadrato Caciolo Questo allenatore E' enorme Ma mi hanno fatto Minuscolo Mi hanno fatto Oh Ma c'ha la premiazione Zia C'ha la malefica Premiazione Alza dal cielo Capitano Uno di Speriamo Speriamo di tanti Di tanti Traguardi Alza dal cielo Sindaco Il sindaco La alza Oggi Essere un pirata E' più bello Vinciamo Questa coppetta Il bonsai Vinciamo Il bonsai Buono 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 Perché questi Soffondi Che ci servono Come erpane Vabbè Jones Se sapeva Che era forte Buono E' più bello Buono E' più bello